La campagna elettorale spero di vederla, speriamo di vederla sulla 7 dopo la fine della campagna elettorale in tempo di pace e politica per discutere ancora di questi e altri temi. Ho detto e ripeto direttore che sono sempre disponibile a parlare di politica se si vuole parlare di politica. Grazie e allora dopo di noi.